Grazie per la visione! L'intervallo della gara, Fluminense contro Forza Amate 1-1, Borelli, autore dell'1-1 su Chigure, non state giocando bene, però è anche ovvio, dato che avete cambiato tanti giocatori, però ve la state giocando fino alla fine? Sì, abbiamo cambiato tanti elementi, la squadra è nuova, dobbiamo un po' trovarci con le posizioni in campo, però ce la stiamo cammando, è una delle squadre più fatte del girone e quindi ce la stiamo giocando quasi alla parte. Cosa ci vuole nel secondo tempo per vincere questa gara? Ci vuole un po' più di cattiveria, qualche tiro in più da fuori e un pizzico di buona persona. Va bene, bucca al lupo! Grazie! Andiamo dal giocatore a Fluminense! Mancello, vieni, vieni! No, ho chiesto, mi soffi un giocatore! Mancello, 1-1 avete iniziato bene, avete anche attaccato, avete fatto soffrire gli avversari, poi nel finale un calo di concentrazione! Voglio uscire i cinami, però! Una bella parata, fazio! Una bella parata, avevo questo calo di concentrazione di tutti i minuti! Niente! Troppe donne, eh, quelli, troppe donne! Niente, troppe donne! Troppe donne del pottier! Troppe donne! Hai com'è? Troppe donne del pottier! Partiamo prima con un time di sconfitto setale, giusto? Prima presenza del campionato! Prima presenza! Ottima prestazione! Eravate diversi nuovi, insomma! Sì, una squadra nuova, una squadra appena creata, insomma, perché alcune assenze non c'erano nella nostra squadra e quindi hanno dovuto rattoppare, insomma, questa partita! Avete giocato bene, avevo parecchie occasioni al secondo tempo! Siamo stati un po' spreconi, non riuscivamo mai a metterla in porta, il palo, peccato sulla punizione, sul cross! Anche il portiere, comunque, il portiere è l'attimo portiere! Cosa c'è da migliorare, questa partita? C'è da migliorare un po' il gioco di squadra, il gioco, i passaggi un po' più veloci, più testa alta, insomma! Ok, ti salutiamo, in bocca al gruppo, alla prossima partita! Persico, migliore in campo del match, la medaglia l'avrai prossimamente con la gente di medaglie! Ma volevo bene! Eh? Buon roba caldo! Comunque, buona prestazione di tu, insomma, primo tempo... Combattuto, finito sull'1-1, però la ripresa proprio si è ripresa, cioè, si è ripresa, in gioco di parole, e si riuscì a portare a casa i tre punti, anche se all'ultimo siete stati abbastanza spreconi, insomma! Eh, anche loro ho buona prestazione, ho preso un palo all'ultimo del coppio di testa, in gioco! Sì, tu ti sei superato due o tre volte... Eh, sì, però anche la mia difesa ha fatto una buona partita! Quindi cosa cerchi di migliorare prossimamente per la tua squadra? Eh, secondo me ci vorrebbe un po' più di calma, eh, sottoporto dovremmo essere un po' più... Ma ti rivedremo più spesso qua? Io spero sì, se no rimediamo! Vuoi dedicare la prestazione a qualcuno? Eh, alla mia squadra! Ok, salutiamo il portierone! A rinirci! Ciao ragazzi!